Fake news e continuano le notizie false sui nostri giornali. Ancora, la raccolta tra sogni e realtà, 10 anni di obiettivi mancati, si dice che la Raggi non ha un piano, la Raggi ha un piano, lo sta realizzando e in realtà la raccolta differenziata è aumentata, è aumentata al 44,5% ad agosto con il mese di agosto che ha segnato un 45%, ancora differenziata la raccolta fa flop perdita fin anno da 25 milioni, nel buco pesano altre voci rischi e aumento della tassa rifiuti, noi ridurremo la tassa rifiuti, non solo, la raccolta non fa flop, anzi la raccolta è al 45,5% e 45% solo nel mese di agosto con punte anche di più 37%, di più 15%, 16% dove abbiamo spodimentato sia la raccolta per le utenze non domestiche che la raccolta appunto sul lungomare di Ostia relativa appunto al periodo estivo, quindi un più che ci consentirà anche di avere appunto un recupero per la Tari e per i cittadini. Il porta a porta si ferma a cortili invasi dai rifiuti ultimatano al comune, qui stiamo soffocando, qui la denuncia della Presidente del secondo municipio che dovrebbe in realtà scrivere, avrebbe dovuto scrivere questa lettera al Sindaco Marino perché il progetto fu avviato di porta a porta nel luglio 2015, quindi la Presidente del secondo municipio dovrebbe contestare se stessa e il suo sindaco e il suo partito che hanno avviato un modello sostanzialmente aberrante di porta a porta, perché diciamo queste aberrazioni che noi invece vogliamo superare con il sistema delle piazzole? Perché questo modello aberrante prevede che Ama vada addirittura lungo le scale, vada in casa delle persone a ritirare di rifiuti, cosa che non avviene in nessuna città italiana. L'esempio che viene fatto e qui lo voglio proprio mostrare, mostra appunto un cortile interno, questo cortile interno è una proprietà privata dove Ama non deve assolutamente entrare, è una proprietà privata peraltro c'è anche appunto su questo un contenzioso e in tutti i casi noi stiamo rivedendo il sistema, ma è il sistema che è fatto dal partito della Presidente che oggi lo contesta e quindi dovrebbe contestarselo in casa. Ma queste contraddizioni le vediamo da parte dei consiglieri del PD anche in altre occasioni. Una consigliera del PD contesta l'assicurazione che chissà perché invece in tutte le città amministrate del PD è prevista per i volontari che fanno attività sul verde, dovrebbe contestarsene allora in tutta la città amministrate del PD, non alla RAGGI, naturalmente queste contestazioni sono solo appunto frutto di un attacco di tipo ideologico, ma qui invece abbiamo un'altra informazione sbagliata, l'informazione dei volontari rivolto contro la RAGGI, il ricorso al TAR per dire no al nuovo regolamento del verde. Il ricorso al TAR è un'informazione completamente sbagliata perché il nuovo regolamento del verde ancora non è stato approvato, quindi non vedo come possa essere stato fatto un ricorso al TAR su un regolamento che è ancora in fase di approvazione. Quindi qui siamo proprio a livello di informazione completamente errata. Tutte e tre news.